Ok, dopodiché passiamo alla seconda delibera che è la variazione di assestamento al bilancio di previsione. Esercizio finanziario 2012, la parola all'assessore Muzza. Buonasera, stasera approviamo l'assestamento del bilancio 2012. Come sempre l'assestamento sapete va approvato entro il 30 novembre e diciamo che serve a fare le ultime variazioni che permettono o dovrebbero permettere gli equilibri di bilancio di fine anno. Quest'anno l'assestamento è abbastanza semplice, nel senso che ci sono moltissime variazioni e viene abbastanza caratterizzato dal fatto che all'interno dell'assestamento... Vi è... Aspetta, aspetta, chiamati. Cosa è successo? Non volete ascoltare le... Dicevo... Dicevo che l'assestamento quest'anno è abbastanza caratterizzato... Per favore però, scusate. Caratterizzato dal fatto che all'interno è compresa l'estinzione anticipata di alcuni mutui e poi dirò il perché di questa estinzione. Peraltro c'è il secondo atto, diciamo, di natura finanziaria che riguarda specificatamente questa estinzione, ma i due atti sono sostanzialmente collegati, per cui qualcosa dirò adesso e qualcosa dirò dopo. Allora, per quanto riguarda le variazioni, voi vedete che vi sono delle maggiori entrate e le due principali maggiori entrate riguardano, diciamo, un incremento del fondo sperimentale che deriva da un minor taglio che al momento, ad oggi, qui nella relazione scritta, mi sembra di ricordare il 9 di novembre, ma ancora oggi, diciamo, il Comune di Corsico ha potuto usufruire di questo minor taglio che era invece stato previsto in merito all'introduzione IMU. Non c'è stato, noi speriamo che non ci sia, ma non possiamo essere sicuri al 100% perché di giorno in giorno le cose cambiano, però al momento abbiamo avuto questo, diciamo, beneficio e quindi c'è una maggiore entrata di 252 mila euro. La seconda maggiore entrata riguarda il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, di cui si prevede, in base alle notizie ultime che abbiamo avuto, una maggiore entrata di 809 mila euro. Ovviamente questa va a favore di tutti i comuni che fanno parte del nostro settore, non solo piano di zona, ma è evidente che è anche una parte di giro, nel senso che se non dovessero entrare, tanti entrano meno in entrata, tanti ne usciranno meno in uscita, perché appunto si tratta di una mera parte di giro. Se entrano verranno spesi per il piano di zona, se non entrano non verranno spesi. Le notizie che abbiamo sono queste e quindi sono anche, diciamo, relativamente confortanti perché è cresciuto questo stanziamento. Per quanto riguarda le minori spese, la più importante, come vedete, è quella di 676 mila euro, che riguarda, diciamo, la parte di incremento IMU, che era stata inserita come spese di manutenzione, ma in realtà già in sede di bilancio era stato detto che questa parte veniva appunto messa con quella voce, ma in realtà doveva essere considerata una migliore spesa, quindi per coprire i tagli che erano stati ulteriormente fatti dal governo ai comuni. E quindi ce la ritroviamo adesso, diciamo come una migliore spesa, perché era stata messa come spesa per interventi di natura manutentiva, ma non verrà spesa in questa maniera. Naturalmente il resto, quello che manca per arrivare al milione di euro, che ha fruttato l'aumento dall'8 al 9% dell'IMU, invece è stata spesa e sta per essere spesa, insomma, verrà spesa entro quest'anno totalmente per le manutenzioni che sono in corso. A fronte delle maggiori entrate e delle minori spese c'è il capitolo delle maggiori spese che sono state evidenziate in maniera abbastanza specifica nella relazione e che riguardano in particolare alcune maggiori spese relative alla riflessione scolastica, maggiori spese per contributo per quanto riguarda la pulizia dell'area a terradeo, maggiori spese per ricovere di minori che ci vengono affidati dal Tribunale e soprattutto le maggiori spese relative al piano di zona, che sono quelli 844 mila euro. Per la parte ordinaria, ecco, e poi naturalmente ci sono le maggiori spese di estinzione mutui. Allora forse è meglio aprire una parentesi adesso, perché tanto se ne parliamo adesso non ne parliamo dopo e lo daremo per scontato, cioè questa estinzione di mutui deriva da questo. Lo Stato aveva deciso di tagliare quest'anno 500 milioni di euro per tutti i comuni e da lì era venuta la necessità appunto di aumentare l'IMU eccetera eccetera. L'ultima versione, diciamo, nel decreto legge che è già stato trasformato in legge, che qui è citato, dice che i comuni superiori ai 5 mila abitanti questo taglio viene eliminato, sospeso, purché questi soldi che vengono dati dallo Stato debbano essere impiegati per estinguere dei mutui. Ovviamente lo scopo è quello di natura europea, evidentemente il nostro governo ha stabilito in sede europea una diminuzione dei debiti degli enti locali in questo senso per le spese straordinarie, i mutui che sono stati presi, per cui questi soldi che devono essere tagliati invece vengono impiegati obbligatoriamente, e adesso vi dirò perché, per questo scopo. Perché se i comuni non spendessero questi soldi, per noi sono 469 mila euro, che poi diventeranno 512 per completare i tre mutui che abbiamo scelto, non impiegassero questi soldi per questo scopo, la stessa somma, quindi 469 mila euro, verrebbe tagliata l'anno prossimo, insieme a tutti gli altri tagli che sono previsti. Quindi è evidente che avendone la possibilità, perché il Comune di Corsico ha questa possibilità, non ci resta che aderire alla richiesta del governo di estinguere questi mutui. La cosa che dà leggermente fastidio è che oltre a estinguere i mutui bisogna pagare anche, nel nostro caso, 134 mila euro di estinzione, di indennizzo di estinzione, ma nonostante ciò c'era stato, anche se vi ricordate, l'avete detto sui giornali, un emendamento che prevedeva per i Comuni la possibilità di non pagare queste indennità di estinzione. Purtroppo non è stato poi portato avanti, non è stato approvato, e quindi l'estinzione va pagata. Non solo noi, tutti i Comuni dovranno pagare questa estinzione. Però, nonostante questo, anche dal punto di vista meramente tecnico, una piccola utilità economica, in relazione al fatto che noi andiamo a estinguere mutui che ci costano il 6%, abbiamo fatto il conto che comunque ci sarà. Nonostante, se noi dovessimo pagare interamente il mutuo, fino a fine, e questi mutui scadono tutti nel 2029, avremmo comunque un maggiore sborso di interessi rispetto a quanto paghiamo di indennizzo. Quindi, non molto, ma un vantaggio anche da questo punto di vista, noi ce l'avremo. Per quanto riguarda la parte conto capitale, l'unica variazione riguarda, diciamo, una minore entrata di 650 mila euro di cessione di aree, che si riferisce alla quota parte della cessione che noi andiamo a fare, l'operazione della residenza sanitaria per gli anziani, perché questi 150 mila euro verranno poi dati l'anno prossimo, ovviamente. Quest'anno entreranno 1 milione e 800 mila euro. E a fronte di questo, però, abbiamo avuto entrate per oneri di urbanizzazione e monetizzazione di aree di pari importo, che ci permettono di coprire l'intera posta che era stata prevista in bilancio per quanto riguarda questa voce. E quindi, tra l'altro, questo riguarda un'operazione, diciamo, che riguarda la porcellanosa Venispor, un'operazione urbanistica che ci ha consentito anche qui di ricavare una somma notevole che, peraltro, verrà data per circa tre quarti quest'anno e un quarto l'anno successivo. E quindi, con questo, diciamo, io vi ho illustrato quali sono le variazioni che noi proponiamo in assestamento per avere il definitivo equilibrio del bilancio 2012. È d'obbligo che entro il 30 di novembre, come in ogni anno, debba essere fatta una variazione di bilancio, il bilancio in essere, come ultimo assestamento. Quest'anno, direi, è abbastanza contenuto. La relazione della Sra. Muzza è già ben evidente quello che è stato fatto. La cosa che più ci interessa ed è evidentemente quella che è stata anche indicata nella relazione è il fatto che ci permette anche quest'anno di mantenere, oltre ad equilibrio di bilancio, anche il patto di stabilità. Quella che è la cosa più importante per i comuni in questo momento, perché tendenzialmente qualora non avessimo potuto rispettare il patto di stabilità ci saremmo trovati il prossimo anno oltre alle riduzioni che già sono in corso altre riduzioni ancora superiori. Per cui tendenzialmente i valori che sono stati indicati che riqualificano tutto sono ben evidenti ed è giusto anche la questione relativa all'estinzione dei mutui. In effetti il tasso del 6% in questo momento sui mutui è abbastanza importante. L'unica cosa che ci saremmo augurati visto che c'è un obbligo a dover estinguere i mutui che non ci fossero stati gli indennizi oltretutto perché ricapisco anche bene qualora l'indennizio fosse rivolto a banche nella tua correnza cioè banche nazionali. Questo invece sono finanziamenti ottenuti dalla Cassa dei Posti e Prestiti per cui tecnicamente sono sempre soldi che vanno comunque imputati a un costo diverso dell'operazione. Per cui noi come lista civica siamo favorevoli a questo tipo di variazione e votiamo a favore dell'assestamento. Grazie. Tu hai ragione perfettamente solo che ti giuro non avevo voglia stasera di intervenire perché ho avuto una discussione anche con Muzza nella commissione istituzionale quindi mi devo ripetere sulle solite cose comunque è giusto anche dirle per far sapere anche il nostro punto di vista anche gli altri consiglieri. Ora questo sostamento di bilancio penso che sia abbastanza semplice abbiamo detto non ci sono quattro numeri quattro cifre che poi dopo la fin fine pareggiano sempre il contesto nel quale viene identificato questa variazione bisogna valutarlo nell'ambito di un bilancio che come io ho già detto da parecchio tempo logicamente mira solo ad avere dei tagli perché giustamente è quello che impone lo Stato è quello che i comuni devono fare però vedete si torna sempre sotto il discorso il nostro bilancio è carente per i motivi che io spesso volentieri ho spiegato di conseguenza siamo in queste grosse difficoltà e anche in queste variazioni qua lo verifichiamo entrano pochi soldi li compensiamo il getto dell'IMU che è entrato abbiamo detto che una parte va adibita alla copertura del mancato trasferimento dello Stato quindi ci troviamo ad avere una realtà di una città che vive in funzione dell'amministrazione perché il discorso io posso capire quello che dice Busonati che a livello contabile è giusto questo per l'amore di Dio io mi ricordo che nel primo intervento che ho fatto qua nella nuova legislatura io ho detto se io guardassi adesso come neofita della politica forse un neofita della politica direi questa amministrazione sta facendo bene sta pensando a tagliare perché ci sono delle spese dovute al fatto dei tagli dello Stato che comunque come dicevo prima non penso che le facciano solo a Corsico lo faranno tutti i comuni purtroppo questi questi bilanci qua sono i residui di bilanci precedenti perché noi ricordiamoci sempre che se nel nostro bilancio abbiamo una spesa fissa che pare il 40% circa dovuta a paio di contributi per dipendenti in esubero la volontà dell'amministrazione di non reintegrare chi va in pensione lo devole però quando arriveremo a un punto tale per cui potremo permetterci di non essere qui a speculare sulla riduzione delle spese perché altrimenti non riusciamo a fare di questa città una città non dico modello ma quantomeno vivibile come dico io io posso portarvi ancora un esempio banale domenica mattina venivo con la macchina giù dal ponte di Corsi intorno in via Garibaldi c'era una persona in carrozzina che era in mezzo alla via che stava andando penso verso la via Salma sono rimasto dietro a lui perché non è possibile per questa persona andare su un marciapiede parlo di via Garibaldi non sto parlando della Corea della zona Corea la via Garibaldi la via del centro questa persona stava in mezzo alla strada io non voglio ripetere sono stuflite sempre le solite cose non è possibile una persona portatrice di handicap non abbia la possibilità di vivere in questa città perché non abbiamo i soldi per mettere a norma i nostri marciapiedi io ho discusso nel modo benevolo quando parlavo delle opere che stiamo facendo adesso io ho detto ma mi sembra che stiamo facendo dei rappezzi ma ci sono detto no Taranto sono rappezzi mirati chiamiamolo come vediamo sono dei rappezzi in piazza Europa dove abito io in zona c'è la via che va dietro dalla via Piave e entra poi in 4 novembre sono 300 metri di via mi sembra di essere marostica c'è il pezzo a destra per 20 metri poi ho fatto il pezzo a sinistra per 20 metri poi il pezzo a destra ancora più avanti per 20 metri possiamo fare gli scacchi di ventili perché non è possibile fare una via in 3 pezzi metà carregiata sulla destra poi metà a sinistra poi metà a destra ho visto lì Vittorio Veneto sono entrato in Vittorio Veneto oh finalmente questa qui l'abbiamo fatta tutta completa meno male a 20 metri dallo stop con la via Piave ci siamo fermati perché? forse l'Attic si era fermata con i tubi solo lì? non è possibile per me fare un lavoro del genere finiamo questa via facciamo un pezzo completo la via Vittorio Veneto è a posto per i prossimi 5 anni 6 anni sperando che il tempo sia clemente ci permetterà di avere una via in ordine allora io li chiamerò a pezzi perché logicamente i soldi a disposizione per queste opere sono pochi e io però vi ho fatto un consiglio magari prendiamo tre vie facciamole bene e poi una prossima funziona i soldi che avremo ne faremo altre tre non so se c'è difficoltà che alcune vie sono veramente in condizioni terribili però anche fare in questo modo qua un pezzo di Matteotti un pezzo del Ponte un pezzo di Piazza Europa io li ho chiamati i rappezzi ma nel senso buono della parola perché sono dei rappezzi però purtroppo la situazione è questa accettiamola però come dico non è un bilancio dovuto in questo momento io voto contro perché vedete questa gestione qua in 16 anni che sono in questa corse comunale ho visto purtroppo degli sprechi tali che mi hanno portato ad avere una realtà del genere lo continuo a dire poi magari mi sbaglierò il mio pensiero penso che sia legittimo e possa essere lasciato anche da tutti però questa è la realtà io questa sera voterò contro ancora perché non vedo ancora la possibilità di rendere veramente bella questa città non siamo ancora a questo punto sono sempre in attesa e io riprendo una nota appunto del consigliere Tarantola che peraltro è sempre molto attento nei suoi interventi nelle sue osservazioni e invece noi noi diamo il nostro favore a questo assestamento di bilancio proprio perché consideriamo l'ambito del bilancio nel suo complesso così come poi l'abbiamo visto nel susseguirsi dell'opera di questa amministrazione in questi due anni e mezzo per cui le cose che a noi sembrano e ci sembrano tuttora fatte in maniera molto positiva e che sono da valorizzare innanzitutto il patto di stabilità e questo anche qua sembra quasi che sia nella nostra città una un risultato scontato ma per quello che a me pare di capire quando parlo con l'amministrazione non è per niente scontato soprattutto poi quando ci riferiamo anche a comuni che sono attorno a noi o che hanno delle dimensioni analoghe in tutto e per tutto al nostro con tutto poi mi sembra anche che in questo caso e stiamo parlando adesso invece degli assestamenti un atteggiamento prudenziale sia d'obbligo in un clima di incertezza perché le parole dell'assessore Muzza che dicevano per questi tagli che non ci sono stati virgola per ora punto in tutto questo con tutto che poi conosciamo il fatto che abbiamo fatto il bilancio di provvisione alla fine di giugno per le motivazioni che conosciamo adesso non stiamocele a ripetere perché comunque stiamo parlando di un clima di incertezza sotto tutti i punti di vista a maggior ragione poi per quello che riguarda le precedenti gestioni non entro nelle precedenti gestioni mi limito però a segnalare ma lo conosciamo tutti anche questo il fatto che esistono degli avanzi di bilancio progressi che però per inotti motivi ancora non si possono utilizzare e allora mi sembra tutto molto coerente ma io in questo caso è coerente con un senso positivo il lavoro fatto e in questo includo anche i lavori che sono stati annunciati e che poi sono in corso di realizzazione a partire dal luglio dello scorso anno i famosi 800 mila euro che derivavano da quel quantum che avanzava dall'inizio dall'aumento delle aliquote che abbiamo votato noi stessi grazie sì anche io sono favorevole all'assestamento di bilancio anche perché in un momento di restitrezza economica l'assessore ha fatto i salti mortali per quadrare questo bilancio e quindi anche il fatto di estinguere i mutui credo che sia una cosa importante perché ce li porteremo avanti chissà ancora fino al 2029 quello che mi ha lasciato un po' come dire perplesso è la penale che paghiamo per estinguere i mutui sembra una cifra enorme comunque usiamo quei soldi perché se vanno usati solo per l'estensione di mutui io credo che sia stata una scelta giusta volevo ricordare all'amico Tarantola che il problema delle strade è importante lo viviamo tutti i giorni e credo che si possa fare di più si può fare di meglio ma la scelta che è stata fatta poi anche su non fare le strade intere era perché era legato alle risorse che avevamo quindi abbiamo tamponato le situazioni più 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 grose quindi noi avevamo dei soldi da spendere e quindi i metri quadri che potevamo sistemare erano quelli quindi la scelta era quella di sistemare le priorità io credo che però bisogna dire dire anche la verità perché il fatto che non ci arrivano risorse e i comuni i sintaci sono quelli che devono dare i servizi molto probabilmente noi dovremmo anche capire i sacrifici che stiamo facendo E che quindi non stiamo buttando via assolutamente niente. Con le risorse che abbiamo facciamo quello che si può. Quindi io credo che questo assestamento di bilancio contenga delle cifre contenute e sono favorevoli. Grazie. Sì, ovviamente stiamo lavorando e stasera proveremo un assestamento di bilancio in una situazione molto difficile. Il 21 novembre voi avete visto per televisione che a Milano c'è stata una grande manifestazione di sindaci, eravamo circa 300 persone, e in rappresentanza quindi di varie realtà locali e diciamo che la parola d'ordine era unica per tutti i sindaci di tutte le estrazioni politiche. Perché tutti stanno facendo la stessa fatica che stiamo facendo noi, tutti hanno detto in quella circostanza che non riusciamo più a dare risposte ai cittadini, che non si può governare con un patto di stabilità così pesante, che proprio questo patto di stabilità sta ammazzando anche tutte le imprese dei territori, perché ovviamente non si fanno lavori pubblici, non si consente quindi anche a piccoli lavori di poter partire e quindi anche contribuiamo al licenziamento di moltissime persone. Questo lo dico perché è ovvio che a tutti noi piacerebbe fare un marciapiede più adeguato, piacerebbe fare una strada tutta asfaltata nello stesso modo, invece che fare i rappezzi qualificati perché si chiamano così e li abbiamo chiamati esattamente così perché così sono, però questa è la condizione in cui ci troviamo a governare. Non è il nostro bilancio un bilancio negativo, le cose le stiamo sistemando in modo tale che saranno sempre più positive, perché non solo c'è un avanzo obbligatorio che stiamo facendo da un po' di anni e che quindi quest'anno ci porterà vicini ai 9 milioni di avanzo complessivo, ma questa estinzione dei mutui che è stata dovuta a una grande lungimiranza della nostra amministrazione che ha deciso di fare una manovra aggiuntiva nel mese di settembre e quindi ci siamo preparati per una evenienza che alcuni comuni invece hanno avuto in modo negativo, noi non abbiamo avuto questo taglio che ci aspettavamo e altri comuni invece che non hanno fatto la manovra che noi abbiamo fatto in previsione di quel taglio si sono trovati il taglio senza le risorse per poterlo fronteggiare, quindi sono in una grandissima difficoltà. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo potuto quindi anche rispondere in modo adeguato a questa richiesta di lavorare sull'estinzione dei mutui, l'abbiamo fatto, questo ci consentirà nel 2015 per esempio una estinzione di tantissimi mutui, credo 48 mutui più o meno dovrebbero essere, cioè significa che avremo da quel momento circa 600 mila euro in più all'anno, a proposito delle cose che diceva Tarantola, e quindi significa che avremo 600 mila euro in più all'anno per poter dedicare alla manutenzione della nostra città. E' una buona notizia, purtroppo ahimè è di là nel tempo da venire e quindi è ovvio che quello che noi stiamo facendo adesso è un lavoro di risanamento forte dei nostri bilanci che si vedrà però purtroppo ahimè nel tempo. Per quanto riguarda l'estinzione del mutuo, come mai si pagano a penale così pesante? E' un terzo, perché tre per quattro, dodici, se la matematica non è un'opinione. Tra l'altro la cassa dei posti testi è sempre una base, ma mi sembra una cosa esagerata, sinceramente. Penso che ne vale lo stesso la pena, però sono sempre soldi che si devono tirar fuori. La cassa dei posti testi non è sottoposta alla legge del sangue? Sì, che ne so, magari 30-40 mila euro per tutto, era più accettabile, ma 134 mila euro non sono poche. No, io sinceramente non dico come mai, pensavo che fosse una penale, però ho detto non vorrei che magari qui ci fosse l'interesse dell'intero anno. Allora, solo la penale è tanta. Velocemente perché molte cose le ha già dette la sindaca, volevo ringraziare i consiglieri per gli interventi, sono stati molto pacati e ragionevoli. In particolare voglio ringraziare Busnati, perché io non avevo parlato del patto di stabilità per mera prudenza, nel senso che ovviamente noi siamo convinti di portarcelo a casa, ma devono ancora verificarsi degli eventi e abbiamo ancora 30 giorni di tempo perché si verifichino e per rispettare anche quest'anno il patto di stabilità. Per quanto riguarda le problematiche di crisi generale, che non riguarda solo il Comune di Corsico, ho già detto il sindaco, giustamente ha fatto presente, l'avrete sentito tutti, che io non ci credo a queste minacce, finché non le vedo perlomeno in parte realizzate, ma c'è una minaccia da parte di tutti i sindaci, da quello che so io, di dimissioni di massa, se entro questo venerdì il governo non darà risposte. Secondo me non succederà, ma questo è per dirvi che clima esiste a livello nazionale sulla situazione degli enti locali, che è una situazione tragica in generale. È una situazione che noi, in particolare nel Comune di Corsico, abbiamo tenuto fortemente sotto controllo perché nelle discussioni molto pacate che facciamo in Commissione io e Tarantola, più che discussioni sono scambi di opinioni, lo sa chi partecipa a queste riunioni, Io più volte ho detto che noi stiamo lavorando per fare in modo che il bilancio del Comune di Corsico, quando finirà questa storia del patto di stabilità, sia un bilancio che regga con le proprie risorse, Cosa che è molto difficile per il Comune di Corsico perché storicamente il nostro bilancio si è sempre basato sul fatto che lo Stato aveva previsto un fondo molto alto per il Comune di Corsico per ragioni storiche. E questo è un ulteriore punto difficile del nostro bilancio. Noi però stiamo lavorando perché questa tendenza sia invertita e secondo me ci stiamo riuscendo perché la dimostrazione non è solo il grande avanzo che noi abbiamo e che purtroppo in questo momento non possiamo spendere, ma prima o poi spero che qualcuno, forse noi speriamo, se non noi altri, riusciranno a spendere. Ma anche il fatto che noi abbiamo ridotto le spese, anche strutturali, anche quelle del personale, di parecchi milioni di euro e questo incide sulla nostra stabilità di bilancio. È una cosa che deve essere assolutamente valutata da tutti, dalla maggioranza alla minoranza. È uno sforzo difficile che stiamo facendo ma che abbiamo proseguito con estrema intenzione di arrivare a un risultato positivo. Poi evidentemente per quanto riguarda i lavori, le nuove opere, facciamo quello che possiamo perché è più facile in questo momento ed è estremamente difficile, anche se è più facile, mantenere i servizi che il Comune ha sempre dato che non pensare ad avere nuovi servizi o fare nuove opere. È quasi impossibile in questo momento, anzi direi proprio che è impossibile in questo momento pensarlo. Però non è impossibile pensarlo per un prossimo futuro se cambieranno le condizioni economiche e finanziarie del nostro Stato. Grazie.